Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Russo, sono uno psicoterapeuta, sono un criminologo, da diversi anni sono docente dell'Università Popolare di Torino, tengo il corso di psicologia criminale investigativa e il corso di sessuologia. Nella vita, dal punto di vista lavorativo, sono un libero professionista e poi lavoro come giudice onorario al Tribunale per i minorenni del Piemonte della Valle d'Aosta e sono a casa circondariale di bollate nell'unità dei sex offender. Sono apportato all'Università Popolare come insegnante, perché è un'istituzione molto conosciuta nel panorama formativo torinese, vedevo dei corsi, c'erano diversi corsi, mancava il corso di psicologia criminale investigativa e quello di sessuologia, l'ho proposto, è piaciuto il programma dei corsi, ho iniziato a frequentarla, è un ambiente molto bello, molto arricchente, sia per gli studenti ma anche per i docenti che imparano tanto dai loro studenti.